Carità globale, questo è il focus del sesto di un ciclo di nove incontri intitolato Chiamati a servire il bene comune, promosso dal Consiglio Comunale dei Giovani di Grottaferrata. Un percorso che comprende lezioni teoriche, tavole rotonde e confronti con professionisti, con lo scopo di riscoprire e rinsaldare il rapporto tra giovani e politica del territorio. Come è nata l'idea di questo ciclo di seminari e che obiettivi si propone? Intanzitutto gli obiettivi sono quelli da statuto del Consiglio Comunale dei Giovani di introdurre i giorni alla vita pubblica e amministrativa della cittadina e poiché noi abbiamo come pilastro centrale del nostro mandato quello di valorizzare la cultura e la formazione abbiamo pensato che il futuro siamo noi e quindi il futuro è una classe dirigente informata che studi, che si applichi, perché questo ciclo di seminari nasce da un'analisi negativa della situazione attuale per cui noi viviamo un momento di disorientamento politico che ci rispinge a pensare alle categorie del politico. Quindi noi vogliamo formare una nuova classe dirigente che sappia agire nel mondo attraverso delle competenze. Un ciclo di eventi che sottolinea il rapporto fondamentale tra politica, etica e responsabilità temi quanto mai attuali anche per noi giovani. Sì, per i giovani ovunque essi siano, quindi anche nell'università, dove forse spesso si dà l'accento anche giusto alla formazione, allo studio, che deve essere serio e rigoroso, ma lo studio deve servire anche a questo rapporto con tutto ciò che c'è nel mondo. E allora ecco, un'occasione come questa, che discute del bene comune, serve ai giovani, serve a chi non è più tanto giovane per ricordarselo e serve soprattutto per il futuro. Eventi di questo tipo sono collegati anche a un progetto di stage in collaborazione con l'Università di Tor Vergata? Sì, sono molto lieto davvero di dire che si concretizza poi questo principio nel rapporto di collaborazione tra la facoltà di lettere e il territorio, l'istituzione del comune di Grottaferrata e le attività che si svolgono qui. Riprendendo le parole di Max Weber, il politico può essere solo quello che fonda etica della convinzione, etica della responsabilità per le proprie azioni, perché la politica si traduca in cittadinanza e impegno comune. La politica fa parte della dottrina sociale della Chiesa, la politica però è intesa come qualcosa di grande, come appunto Paolo VI l'ha chiamata la carità, la più alta forma della carità sociale e quindi tutto l'impegno nel prepolitico, nel proporre quei valori che io nella relazione ho chiamato non negoziabili, che sono i valori fondamentali della persona, della dignità sua, della famiglia e della stessa società. Beh, la povertà di senso e il nafragio del senso è uno dei problemi più grossi dei nostri paesi. È un problema che dipende dall'impatto molto forte delle disuguaglianze sull'infelicità e dal fatto che c'è una grossa crisi nelle relazioni. Nei paesi ricchi si investe sempre meno in relazioni e la vita di relazioni in realtà è ciò che è più importante per la felicità. Noi pensiamo che una possibile soluzione, che risolve contemporaneamente il problema della povertà di senso e della povertà dal bisogno, quindi quella economica che anche ci affligge la povertà, la miseria, la disoccupazione, sia proprio quella di orientare la propria vita al miglioramento del benessere degli ultimi. E questo oggi è possibile farlo attraverso una serie di strumenti che consentono a tutti di partecipare. Penso al voto col portafoglio, al commercio equi solidale, al microcredito, l'economia di comunione, all'impegno per il sostegno di iniziative missionarie nei paesi del sud del mondo. Dunque, carità globale, solidarietà, non sono atti meramente di altruismo, ma di collaborazione con paesi cui problemi non ci sono così estranei? Assolutamente, poi c'è un modo e modo anche di farli. È molto importante lavorare non per dare degli elemosi né degli oboli, ma investire nella capacità di fare degli altri. Aiutare gli altri vuol dire dargli dignità, dargli un ruolo, insegnargli un'attività di cui possono essere orgogliosi. E questo è quello che mirano iniziativa, il microcredito e il commercio equi solidale. Non sono mai delle donazioni a fondo perduto, ma chiedono alle persone una controprestazione e le incentivano e le stimolano a imparare un'attività che poi le consentirà di essere indipendenti.